E vediamo come si lancia l'elaborazione all'interno di 3D Flow Zephyr e arriviamo quindi al primo prodotto dell'elaborazione Structure From Motion, ossia la nuvola di punti sparsa. L'allineamento tra le immagini vuol dire prendere le immagini, confrontare, analizzare immagine per immagine, tirare fuori delle informazioni che sono quelle dei punti caratteristici e poi in un secondo step, sempre all'interno del processo dell'allineamento, le immagini vengono confrontate a coppie per cercare di matchare i punti caratteristici di una e dell'altra immagini e se questi matchano, se c'è corrispondenza, trasformarli in elementi nello spazio tridimensionale. Questa versione di Zephyr che io utilizzo è la versione Arial, ma il processo di allineamento delle immagini funziona con tutte le versioni che sono a disposizione per te legate a Zephyr, dalla Light fino all'Arial. Elaborazioni successive come l'inserimento dei punti di appoggio e di controllo per l'orientamento fotogrammetrico invece sono soltanto possibili con le due versioni più avanzate che sono la Pro e l'Arial. Per lanciare un nuovo progetto, e il progetto parte dall'allineamento delle immagini, nel video precedente abbiamo visto come si lancia un progetto rapido, un quick project, in questo caso lanciamo invece del progetto rapido un nuovo progetto. Ctrl N oppure clic su un nuovo progetto si apre un wizard che ti guida durante l'elaborazione, durante i primi passi del nuovo progetto. Hai la possibilità di generare oltre che l'allineamento, quindi i punti di allineamento, i matching points, la nuvola sparsa, anche qualcos'altro, quindi puoi volendo andare anche avanti, le elaborazioni saranno aumentate, saranno incrementate le elaborazioni con la nuvola densa, la mesh e la mesh più la texture, ma io queste cose le lascio deflaggate, perché preferisco, però questa è una mia, mio parere personale, mio modus operandi, lavorare per step iniziando soltanto con l'allineamento delle immagini. Puoi scegliere di importare vincoli, che saranno poi le informazioni importanti, e questo è legato all'Arial, che ti permetteranno poi di orientare i punti della nuvola sparsa e di ottimizzare l'allineamento, ma anche questo lo vediamo poi in un altro video, quindi qua tolgo il flag, cioè non metto nessun tipo di flag, lascio il flag qua, scarica calibrazione dal database online. Devo cliccare su questo tastone più e selezionare le immagini che io voglio utilizzare, è un dataset di fotografie nadirali di un'area di cava, te ne faccio vedere giusto un paio per capire di che cosa si tratta. Vedi, sono queste fotografie scattate lungo questa strada di cava, le ho aggiunte, successivo, lui accede al database online, ecco perché abbiamo lasciato il flag su quell'opzione nella prima finestra, accedendo al database online lui ha già informazioni sulla lunghezza focale reale, lunghezza focale equivalente al formato 35 mm, risoluzione delle immagini e anche dimensione delle immagini in termini di pixel, lato lungo per lato corto. Do successivo e qui dobbiamo scegliere quali sono i parametri che vogliamo che il software usi per noi nel processo di allineamento. Hai varie opzioni, di default ti si apre questa finestra dove puoi scegliere categoria e preset. Categoria, con categoria vengono in qualche modo schematizzate le opzioni più comuni che hai a disposizione o meglio con cui ti puoi confrontare operativamente sul campo in relazione al tipo di immagini che stai trattando. Vedi che c'è generico e qua ti viene scritto opzione che funziona nella maggior parte dei casi, oggetti vicini, usa questa categoria se vuoi ricostruire un piccolo oggetto o dettagli di un oggetto più grande, sono ottimi, è un'opzione che va bene per fotografie che sono state scattate più o meno sempre dalla solita distanza con la stessa lunghezza focale. Foto aeree, quindi una scena vista dall'alto, ad esempio immagini prese da drone che è il nostro caso, però potrebbe essere anche un caso di una fotocamera montata su un'asta telescopica molto in alto. Puoi andare su ambiente urbano, in questo caso lui ti consiglia di utilizzare questo preset, questa categoria, se hai delle immagini prese da camere diverse, poi questo lo vediamo in un altro video, oppure corpo umano, se vuoi ricostruire parti del corpo, viste ravvicinate o l'intero corpo. Noi scegliamo foto aeree, stiamo su quello che poi è effettivamente il tipo di dato che ho registrato in campo. L'altra scelta che tu devi fare è scegliere il preset, quindi scegliere quali sono i preset, un pacchetto di parametri, di settings che attribuirai al software, che il software utilizzerà nel fare il riconoscimento dell'immagine, l'estrazione dei punti caratteristici e poi il confronto a coppie per creare i matching point. Ci sono tre opzioni, veloce, chiaramente richiederà meno tempo, magari lui passerà più velocemente le immagini e tratterà velocemente il confronto a coppie e poi via via l'analisi sarà sempre più approfondita per andare da veloce a default a analisi profonda. Questo non è l'unico modo per dare al software delle informazioni legate ai parametri da usare nel processing, perché tu puoi andare qui, cliccare su parametri, ti si apre questo menu a tendina di default ai presets, ma puoi andare su avanzati e quello che puoi fare è entrare all'interno di questa finestra dove puoi singolarmente intervenire sui parametri per ciascuno di questi step. Key point sono i punti caratteristici, il tipo di matching, il confronto tra le immagini, profondità di fase di matching, motore di ricostruzione, ordinamento foto, se le foto sono ordinate, siete scattate con un certo ordine, insomma hai una serie di parametri avanzati che ti permettono di entrare nel dettaglio dell'elaborazione. Personalmente mi piace questa opzione, generalmente inizio con i parametri di default, se c'è qualcosa che non è andato bene, tipicamente non si è allineata a qualche immagine, allora rifaccio un'elaborazione, rifaccio un allineamento entrando nei parametri avanzati e provando a aumentare, modificare qualcosa in modo tale che possa dare al software l'opportunità, la possibilità di lavorare più approfonditamente sulle immagini per tirare fuori i punti di allineamento. Terza opzione che hai è questa, non la uso quasi mai, io li chiamo i parametri super avanzati, entri veramente nel dettaglio di ogni singolo elemento, di ogni singolo aspetto tecnico nell'elaborazione Structure from Motion che il software prende in conto e tratta durante il processing di allineamento. Puoi cambiare veramente tutto, però chiaramente devi sapere cosa stai facendo e che cosa stai cambiando. Io ritorno su Preset, gli do Successivo, lui mi fa un Recap con la posizione delle foto perché hanno un Geotag, io gli do Avvia e lui inizia col Processing. Alla fine dell'elaborazione, che ha impiegato in questo caso per 13 immagini un minuto spaccato, ho una finestra dove ho un report di elaborazione e mi dice che per ogni immagine ho un'informazione yes or no ricostruita oppure no. In questo caso le hanno tutte ricostruite, vuol dire che tutte le immagini sono state allineate. Se clicco fine nello spazio 3D ho la nuvola di punti sparsa che è posizionata nello spazio tridimensionale, quindi questi sono i punti di legame, i punti di allineamento che il software ha trovato nel confronto a coppie tra le immagini dopo aver generato, calcolato e organizzato i features point per ciascuna immagine. Voglio farti vedere, caricate su Cloud Compare, 4 elaborazioni diverse con parametri diversi, quindi ho lasciato invariato l'utilizzo della categoria foto aeree e ho fatto 4 elaborazioni diverse, una veloce, una di default, una parametri avanzati e una, sono entrato nei parametri avanzati, scusa, parametri avanzati no, analisi profonda, poi la quarta, sono entrato nei parametri avanzati e ho pompato tutto al massimo per cercare di fare l'analisi più profonda che c'era a disposizione. Allora vediamo che questa è la nuvola di punti sparsa, legata al derivante dell'elaborazione veloce, quick, sono 4000 punti, se accendo la nuvola di punti legata all'elaborazione default è questa, vedi già che le cose sono cambiate, quindi i punti sono di più e i punti nello specifico sono 11.000. L'elaborazione profonda, questa, mi ha dato 11.500 punti, in realtà non c'è stata una grande differenza tra l'elaborazione profonda e l'elaborazione di default, più o meno i punti sono quelli e anche la distribuzione è quella. Se passo poi alla distribuzione su chi ho chiamato super deep, quindi con i parametri molto avanzati, qui le cose sono un po' diverse perché i punti arrivano ad essere quasi 30.000. Quindi vedi come a seconda dei parametri di elaborazione, di quello che stai utilizzando, le cose cambiano in termini di matching points. Una cosa che mi sento di dirti è che non devi necessariamente essere legato alle categorie per fare l'allineamento. Mi spiego meglio, se hai scattato delle foto da drone non devi necessariamente utilizzare foto aeree come categoria per fare l'elaborazione dell'allineamento. Potresti provare ad esempio utilizzando oggetti vicini o ambiente urbano. Non è detto che le cose non funzionino, anzi a volte potrebbero esserci dei risultati interessanti utilizzando anche categorie che magari non ti viene in mente perché le foto in questo caso le hai scattate da drone oppure le hai scattate in un contesto che non è di quello categorizzato tra i preset, tra le categorie di Zephyr. Questo è il primo video sull'allenamento. Andremo avanti poi con altri dettagli sull'allineamento, foto non allineate, foto da aggiungere, foto scattate da camere diverse. Lo vedremo negli altri video. Spero che ti sia stato utile. Se ti va puoi iscriverti al canale Telegram di 3Dmetrica, telegram.me. Io ti ringrazio per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo, ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini. Ciao da Paolo Corradeghini.